Ciao, benvenuto Graziano. Graziano è qui con noi per raccontarci di un'iniziativa importante, un grande concerto che si terrà sabato sera al Teatro Superga di Nichelino, un'iniziativa di beneficenza, ma lasciamo la parola direttamente al Presidente. Prego Graziano. Siamo mai fermi e quindi abbiamo organizzato, come stai anticipando, un concerto solidale con una, come si chiama Contrasto, una tribute band dei Poo, che da tanti anni suona in tutta Italia, ricorda le canzoni di 50 anni di storia dei Poo e lo faremo in maniera solidale. Quindi una serata per divertirci, finalmente per non pensare purtroppo al periodo tra pandemia e guerre. Insomma ci ritagliamo due ore per vivere in serenità e insomma essere un po' anche in allegria, soprattutto tra amici, insomma tra persone anche solidali. E il ricavato lo utilizzeremo per sostenere i tanti progetti del gruppo vincenziano, quindi come sapete ormai le famiglie e le persone in difficoltà del territorio di Nichelino, attraverso gli alimenti, sia a livello mensile, insomma sia con cadenza mensile che quelli freschi che consegniamo tutte le settimane, assistenza spirituale, psicologica, legale, le docce, lavaggio dei vestiti, insomma tantissime cose che vediamo che le persone apprezzano. E in più vorremmo anche aiutare alcune associazioni amiche che fanno progetti nei pressi dell'Ucraina per raccogliere le famiglie in difficoltà che stanno scappando da questi territori. Quindi aiutiamo sia le famiglie di Nichelino per intenderci, ma non dimentichiamo che visto il periodo le famiglie in difficoltà che stanno scappando da quel territorio. Tra l'altro proprio oggi mi hanno contattato alcune famiglie arrivate dall'Ucraina qua a Nichelino ed è anche bello proprio perché insomma riusciamo subito a far sentire questa vicinanza e questa amicizia e anche a casa insomma persone che sono scappate da zone di guerra. Quindi ecco un momento di allegria, di gioia, sabato quindi 5 marzo alle 21 al Teatro Superga. Per chi ha piacere si potranno acquistare i biglietti direttamente lì in teatro, basta arrivare un pochino prima. Il costo è di 15 euro per gli adulti, i bambini da 0 a 6 gratuito e i ragazzi dai 7 a 12 anni 8 euro. Come vi dicevo per ricavato lo utilizzeremo interamente come ormai sapete insomma per tutti i progetti che vi ho raccontato. Allora amici di Radio Alfa, amici e amanti dei Poo ci si vede sabato sera al Teatro Superga al concerto della Solidarietà. Sì, sicuramente ci staremo anche noi Fulvio, non possiamo mancare perché è veramente un'ottima causa. Complimenti per l'iniziativa. Grazie Fulvio, grazie Mauro, come sempre siete stupendi. Ciao Graziano, grazie mille. Grazie a te, ci vediamo sabato 5 marzo al Teatro Superga di Nichelino. Grazie a te, ci vediamo sabato 5 marzo.